Tappa al porto turistico Masuccio Salernitano oggi e domani per la spedizione di Greenpeace Italia. C'è di mezzo il mare per documentare la biodiversità e la fragilità dei nostri mari e denunciare i crescenti impatti della crisi climatica e dell'inquinamento da plastica. L'associazione ambientalista chiede con urgenza l'istituzione di una rete efficacia di aree marine protette. Una a due giorni con l'allestimento di un villaggio Greenpeace in cui il porto turistico della città si trasforma in una piazza dove si possono incontrare volontari, ascoltare i racconti, partecipare ad attività e laboratori per scoprire la campagna per la protezione del mar Mediterraneo promossa dall'organizzazione ambientalista. Oggi Greenpeace fa tappa alla Lega Navale di Salerno dove lanciamo un importante messaggio per difendere i nostri mari. I mari sono degli ecosistemi orfani dove tutto è concesso e non ci sono reali misure di protezione. Noi oggi chiediamo che venga dato seguito all'accordo ONU raggiunto nei mesi scorsi che prevede di proteggere il 30% dei mari entro il 2030 e questo deve avvenire anche in Italia. La tappa di oggi, questa è una tappa a terra di Greenpeace, seguirà una tappa speciale in mare per capire quanti rifiuti ci sono ma non quelli che galleggiano. Nelle prossime settimane saremo col CNR dove nell'area di Ischia e intorno alla foce del Volturno faremo degli speciali monitoraggi sui fondali proprio alla ricerca di zone di accumulo di rifiuti prettamente in plastica. Oggi quello che vediamo sulle spiagge in superficie è solo la punta dell'iceberg dell'inquinamento. Il grosso è nei fondali, ecosistemi molto importanti, aree di alimentazione ad esempio di grandi cetacee come i capodogli che sono tra gli ecosistemi marini più impattati dai rifiuti in plastica. Andremo lì perché la parte di lavoro scientifico è fondamentale nelle campagne di Greenpeace perché dai dati scientifici noi partiamo per chiedere misure politiche di tutela dei nostri mari. Stamani dando seguito alla diffusione del video dove anche diversi attori e attrici della famosa serie tv Mare Fuori hanno voluto sostenere la spedizione di Greenpeace c'era anche l'attore del cast di Mare Fuori Francesco Panarella che nella serie televisiva interpreta Cucciolo che ha incontrato un gruppo di ragazzi detenuti della casa di reclusione attenuata di Eboli prima di salpare per una veleggiata. L'iniziativa rappresenta un momento importante del percorso di riscatto intrapreso dai giovani detenuti grazie alla loro relazione con il mare e alle professioni ad esso legate. Abbiamo questa opportunità di fare questo bellissimo giro in barca per testimoniare ancora una volta quanto sia importante il mare e quanto sia fondamentale preservarlo e proteggerlo perché siamo solo ospiti di questo pianeta. Un'esperienza particolare quella vissuta da voi del cast di Mare Fuori con alcuni detenuti della struttura di Eboli ma in modo particolare con Greenpeace per vivere il mare. Siamo contentissimi di essere qui con loro per condividere questa esperienza ormai siamo dieci minuti e ci conosciamo e già siamo amici quindi ci stiamo raccontando storie e stiamo avendo un momento di amicizia. Enzo che cosa ha rappresentato per te questa esperienza? Per me ha rappresentato una bellissima cosa perché dopo tanti anni di detenzione grazie all'istituto e grazie alla Liga Navale sto passando una giornata di libertà. Sono onorato di stare vicino a Francesco che segue la serie e dico loro fanno una serie, io l'ho vissuto in prima persona e sono idoli da seguire per i ragazzini, devono solo prendere il buono della serie. Non è niente, questo volevo dire. Grazie di cuore, grazie a Francesco. Grazie a te. Non è difficile non innamorarsi del mare, è stato così anche per te. Guardi adesso al tuo futuro in maniera diversa ma soprattutto stai guardando ad attività che ti possono magari legare al mare. Sì, sicuramente. Già oggi ci hanno dato questa bellissima opportunità e grazie alla dottoressa Faiello so che ci sono altri progetti che porteremo avanti per un mio futuro personale, chissà, per un lavoro, non lo so, quello che verrà. Buon vento. Grazie mille.